E' il piacere, il piacere, i giorni del piacere, i giorni del piacere. Eccoci nuovamente sul palcoscenico del Regio. Fra pochi giorni, il 9 ottobre, inauguriamo la stagione con Simone Boccanera. E tornano anche pillole di passione. Fateci sapere che cosa vorreste vedere di nuovo, che non vi abbiamo ancora fatto scoprire. Scriveteci su Facebook, mandateci un tweet. Grazie, a presto, Paola Giulti, Torino, Teatro Regio.